Questo è il mio secondo giorno da Nizza a Cannes fino a Fréjus e queste non sono le vele di Secondigliano. Buongiorno! Questo è il Fort Carré. Siamo nel cuore del cielo Siamo nel cinema, siamo a Cannes Dopo l'attività di birdwatching è venuta l'attività di car spotting, cioè il notare le belle macchine in giro In Inghilterra e questo sarà molto facile qui a Cannes Inghilterra 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 Quando si va dallo strizzacervelli e ti chiedono, beh secondo te che forma ha quella nuvola laggiù? Inghilterra Inghilterra La costa azzurra è molto molto costosa Non gli credete Qui spiaggia libera Dovunque il parcheggio non si paga E quindi sono tutti soldi risparmiati C'è un mare stupendo E una voglia di tuffarsi L'ultimo sport del giorno Nuoto Inghilterra Noi Abbiamo Inghilterra 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 Noi Noi Inghilterra Noi Noi L'ultimo sport Grazie a tutti.